Salve a tutti ragazzi, sono sempre a mezzo e vengono di questo nuovo video di The Stanley Parable Avvia il gioco, proseguiamo con gli altri finali Adesso andiamo a vedere anche tutti gli altri finali Abbiamo visto i primi due Nella scorsa puntata dove andavamo nella porta di destra Poi proseguivamo, rispondevamo al telefono e incontravamo la mia mogliettina, bella ficca E il secondo finale era quello dove non rispondevamo al telefono E cambiavamo le regole del gioco e prendevamo decisioni L'importanza delle decisioni, è basato su questo praticamente in questo gioco Quindi adesso andiamo a vedere gli altri finali e poi ci vediamo appena parte il gioco Se sentite delle voci di là è perché nella mia sala è nata l'ultima cena di Gesù Cristo Adesso sto facendo un po' di volga, si ubriacano e si drogano Ok, ci siamo Ripartiamo da qui signori, andiamo a vedere cosa dobbiamo fare per altri finali Quindi adesso andiamo avanti, poi vi fermerò quando arriviamo Ok, adesso qui andrei di nuovo a destra Fino ad arrivare dove c'è praticamente quell'ascensore Eccoci qua signori, siamo arrivati Aspetta, non è questo il muro Ok, vediamo un po' Allora, do not jump from the cargo Lift while it is in motion Penalty for missus of cargo Ecco, per esempio, se adesso mi butto di sotto qui cosa succede? Proviamo, dai Esatto, io sono conscio di quello che faccio Mi ha preso per il culo alla grande praticamente Ok, mi fa ripartire da esattamente all'inizio Torniamo dove eravamo prima Ok, io la scorsa volta avevo visto qua che c'era quella porta l'aperta E io credo serva a qualcosa Quindi adesso io proverai ad andarci Vedete, lì ci deve essere per forza qualcosa Allora, spero un attimo, vai, e dopo non c'è la passo da arrivare Ci mettiamo un gare di passaggio sopra, tipo Tipo adesso? DAI! Sì! 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 Ma oddio, io non lo so Adesso proseguiamo di qua Da dove questa strada non l'abbiamo ancora mai vista Ci saranno sicuramente da fare altre scelte qui E... Forse anche una doppia scelta Adesso vediamo cosa ci dice Questa è proprio una nuova area Oh, giusti un po' Ok, perfetto 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 Io non credo di dover scegliere un'altra volta Credo di dover continuare con la mia coerenza Io scelgo quella blu Andiamo di nuovo nella parte... No, no Ho capito bene, fratello Io ancora non credo di comunicare proprio Stan Lee ha camminato Perfetto Perfetto Ah, vedi Guarda Io potevo... Ero così sicuro E va bene, vai pure avanti, Stanley Tu vuoi sapere così male cosa c'è là Tu vuoi trovare cosa c'è all'interno di questa strada Tu hai scelto il mondo Non mi lascia scoprire Cosa sta succedendo? Vedete? Non c'è nulla qui Non ho finito portare questa parte della map Perfetto Perché non dovessi essere qui nel primo posto Proprio ruoli Texture di sviluppo E' questo ci volevi? E' vero Perfetto 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 Non d'aspettavo che prendessi queste decisioni, eh Fatelo E in fine E' tutto per nulla Perché questo è quello che volevi vedere Aiutami, Stanley Aiutami 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 Perfetto Che avrebbe fatto questo game meglio? Che volevi vedere? Vehicoli? Trevi? Sparate? Sparate con me Ti ho dato nulla qui Adesso Ti ho detto Mi prendi un spazio nel nero A un nuovo design E tu puoi darei qualche rispetto Qui Ecco Una terza opzione Questo già sento Llepare inizio Da dove eravamo Oddio Ma io già Proviamo Proviamo Oh Giù Giù Ma io già Sì Boh Ho chiesto Tre Se io clicco tre Ok Vediamo Vediamo The Stanley Parable Worldwide Lead Board Devri andare qui Proviamo Proviamo Andiamo qui Un'altra volta Oddio Ma io che cazzo devo cliccare? Io clicco quattro Così A caso Ma guarda ti dico la verità No non mi scoccia Oddio Ci sta buttando dentro un altro gioco In questo gioco Il bambino Il bambino Ma no ma come per un bambino? Ma perché deve bruciare? Ma no ma come per un bambino? Ma ovviamente Il messaggio del gioco Solo diventa chiaro Dopo aver giocato Per circa 4 ore Quindi Perché non ti dico 4 ore di gioco Per sicuramente E' effettivo Oh madonna Oddio 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 Mi dispiace fratello No fa' il culo Perché non ti dico Perché non ti dico Perché non ti dico Perché non ti dico 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 Un'altra cosa Che potrebbe migliorare La esperienza Non nemmeno provare Sono venuto Sono venuto È finito È finito Grazie per giocare Il tuo input era molto valutato Ok Perché il mio gioco Era così brutto Perché non ti dico Perché non ti dico Perché non ti dico Il gioco Vediamo cosa ho qua Sì Questo non funziona Facciamo un tentativo Vediamo che merda Mi fa fare Vediamo dove mi butta Noi Non ti dico È un'altra cosa Che hai sempre chiesto Che hai sempre chiesto Non ti ho mai Ma è Non c'è È enough Dicci È Il mio Che 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 Creerò solo lui. Ci pensa lui, non faccio niente. Fammi entrare però. Guarda sul mio lavoro di arte e senti assomigliato al vostro inadequo. Ah, ma tu hai solo visto l'altra parte. Tu hai solo ottenuto la parte della esperienza. Per favore, stai insieme. Proviamo. Non ci passo. Non è grande? Non è perfetto? Può solo essere meglio se... Aspetta, è tutto. Dobbiamo ricostruirlo... ...diamondi... ...diamondi tutto. Sì, sì, sì. Andiamo. Andiamo nelle caverne a catturare... ...a catturare. A prendere i diamanti. Dove sono? Dove sono? Andiamo di diamanti. Non voglio morire però. Dagli. Oh my. Si sembra che si sarà un po' dark. Hai portato una luce? Eh... Boh... ...dico la verità non credo. Non ne sono proprio sicuro al cento per cento. Oh, no, 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 no. Questo è molto più aperto da quello che avevo in mente. Sto cercando di qualcosa di più legato e lineare. C'è qualcosa che ti fa sentire veramente irrelevante. Questo non lo farà mai a tutto. Uno da cinque. Anche le diamanti non potrebbero salvare questo. No, come un nuovo gioco. Ok, nuovo gioco. Nooo, voglio buttarmi di sotto. Questo cos'è? Ha, 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 ha. Sì! Non nemmeno nemmeno cosa è questo gioco, ma lo amico. Tu, troppo in una bocca con un po' di giro, non sento me parlare. Oh, è in semplice. Non potrei aver fatto più bene. Che è questo gioco? Non posso farlo. Ok, ora sono curioso. Andiamo a trovare cosa è. Ma cos'è? Portal, ma cos'è? No, io non ho mai giocato Portal, eh. Quindi non lo so. Proviamo qui. Ma credo proprio che sia Portal. Questo lo devo pigliare così. Dai. Ok, così. Vabbè, che cazzata. Che stronzata. Perfetto. Portal. Questo è Portal. Oh. Vi lascio qui. Vi lascio qui. Vi lascio qui. Vi lascio qui. Il mio negozio. Avvenendo contribuzioni culturali culturali all'espansione. E, magari ogni ora e poi, ricordo un uomo chiamato Stanley, che era obiettivamente vero in ogni decisione che ha mai fatto. L' pensamento non durerà tanto. Ciao Stanley, buona successa con il tuo lavoro. E spero di sottosceglie che tutti vivono felice. Dov'è che cazzo? Ehi? C'è nessuno? Ragazzi, c'è nessuno? Oh, merda! Mi è venuta la pelle d'oca, ve lo giuro, non so perché. Però mi è venuta la pelle di merda. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Non vedo un cazzo, me ne vado. Anzi, non vedo nulla. Dove sono andato, madonna, ragazza? Permesso? Madonna, mura. Si può, signori? Non mi fate cacare in mo... Madonna, santa. Prego, non fatemi spaventare. Ehi là? Se io vado di qui... Oh, oddio, eccola. Cosa c'è là? Sesso. Rogga, alcol, pornografia. Completamente a random. Ok, stiamo arrivando in questa stanzetta qua. Ci dirà qualcosa, sicuramente, adesso, dai. Cosa è successo? Cosa c'è? 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 Vabbè Stanley aveva bisogno sempre di qualcuno che gli dava dei consigli quindi questo era un altro finale un altro finale siamo comunque rimasti sempre da soli ok adesso io andrei sempre in quella zona però andrei direttamente nella parte rossa nella porta rossa scusate stavolta ti do ascolto stavolta ti do ascolto vado nella porta rossa fratello si ogni tanto ti ascolto il problema è che tutti questi scelzi i due di noi stiamo sempre cercando di andare a qualcosa che non è qui riuscendo e riuscendo e riuscendo proprio come stai facendo ora non vedete che stai uccidendo Stanley? ma che cazzo mi stai facendo fare? eh fammi vedere va una porta fammi entrare che cazzo è successo? cos'è che vogliamo? cosa stiamo cercando? ah non lo so sì è una sensazione molto strana però io voglio… bellissimo grazie davvero wow ce l'ho dritto un attimo eh ci vediamo ciao no wait where are you going? ma già un attimo vado avanti qualche puttana oh no stai away from those stairs if you hurt yourself if you die the game will reset we'll lose all of this ma cosa vuol dire? perchè dovrei morire? please no Stanley let me stay here don't take this from me cos'è successo? oh merda addio mondo crudere nooo no non mi sono fatto niente grazie di Dio tu vivi tu mi hai scoperto per un momento per un attimo un attimo no 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 cosa stai facendo? Stanley per favore sto chiesto di non portare questo da me non posso tornare a quello che avevo prima se ti dieci dovremmo tornare perché stai facendo questo? ciao mondo crudereee trickshot Stanley andiamo tornare all'altra sala ci riprovo un'altra volta però la sua voce così ci tristimi è questo veramente quanto ti ti piace il mio game? che ti ti scopi da questa piattaforma per ridurlo? che ti sei praticamente disposto di uccidere per mantenermi da essere felice mi ricordo la situazione corretta? faccio un trickshot della madonna ragazzi qua faccio un quickscope no scope trickshot shum omm magari sei solo che ti stai facendo non lo so più io solo volevo che ci si vede ma credo sia troppo tu vuoi vivere o sei solo teazzo mi? oh madonna ragazzi questa è droga però sono morto va a ristare ok signori questo video di The Stanley Parable finisce qui abbiamo visto un altro paio di finali nel prossimo video andremo nella porta sinistra e vedremo cosa succede spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi un commento un consiglio e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi grazie grazie